Sì, lo conosco, lo conosco, lo fanno qua tutti gli anni, mio padre piaceva tantissimo, quando c'era lo vediamo dalla finestra là, sono scesa per fare qualche giochetta. Sì, no nessuna, veramente mi è piaciuto e non saprei cosa dirle. No, nessun disturbo, anche quando c'erano i bambini piccoli li portavamo.